Per essere intervenuti a questa conferenza stampa che il gruppo di Forza Italia ha voluto organizzare per iniziativa di Stefania Prestigiacomo e degli altri parlamentari siciliani e carabressi che già da qualche mese sono fortemente impegnati in Parlamento per sostenere la necessità di inserire nelle opere previste dal PNRR il ponte sullo stretto. In verità è una battaglia condivisa da tutti i parlamentari di Forza Italia, non solo da quelli carabresi e siciliani perché quest'opera è un'opera ritenuta da tutti noi strategica, strategica per il Paese, anzi a volte siamo costretti a rilevare che è persino ritenuta più strategica per l'Europa che per il nostro Paese, essendo inserita in corridoi di primaria importanza, mentre nel nostro Paese spesso quest'opera è viziata da alcuni storici pregiudizi che ne hanno impedito la realizzazione. Noi ce la stiamo mettendo tutta in questi mesi, vorrei ricordare le diverse iniziative che il gruppo di Forza Italia ha intrapreso, una mozione per impegnare il Parlamento ad impegnare il Governo a considerare quest'opera appunto come strategica nel piano di investimenti infrastrutturali che dovremo realizzare. Saluto anche il Vice Presidente della Legione siciliana, Armao. Vorrei ricordare anche molte iniziative di sindacato ispettivo. Per ultima un question time rivolto sempre dall'Onorevole Prestigiacomo, oltre che dall'Onorevole Siracusano e dagli altri parlamentari al Governo per chiedere le ragioni per le quali quest'opera, anche dal Governo, lo diciamo con la consapevolezza di essere un gruppo che sostiene lealmente questo Governo, anche dal Governo, spesso è vista con qualche dubbio. Noi riteniamo che invece dubbi non ce ne debbano essere, che siano risibili le obiezioni in ordine al fatto che quest'opera non sia realizzabile nei tempi previsti e imposti dall'Europa per le opere del Recovery Plan. ha un progetto che è già validato, è un'opera che sarebbe cantierabile. Riteniamo che a questo appuntamento con la storia il Paese, non solo il Mezzogiorno d'Italia, ma il Paese, non debba mancare. Perché o l'opera si realizza oggi, che ci sono tutte le condizioni anche in termini finanziari, per farla, o siamo preoccupati che non si realizzerà più. Salutiamo con grande favore il fatto che le due Regioni, la Regione siciliana, qui rappresentata in maniera assai autorevole dal Vicepresidente Armao, e anche la Regione Calabria, abbiano stipulato un protocollo d'intesa per favorire la realizzazione di quest'opera. Abbiano già offerto la propria disponibilità, qualora ce ne fosse necessità, e secondo noi non ce n'è necessità, la loro disponibilità a contribuire con le risorse assegnate a queste Regioni, a valere, e sul fondo di coesione, sulle risorse strutturali che provengono dall'Europa. È un'opera strategica, anche perché la realizzazione di quest'opera è intimamente connessa anche alla realizzazione dell'alta velocità ferroviaria. Io sono calabrese, io sono convinto che, per esempio, nella mia Regione mai si farà l'alta velocità ferroviaria se non si farà il ponte. Perché rendere un investimento come l'alta velocità sostenibile economicamente per servire una popolazione di due milioni di abitanti è una cosa. Fare un investimento sull'alta velocità ferroviaria per una popolazione di 7 milioni è altra cosa, rende questo investimento più sostenibile. Io mi fermerei qui e darei la parola subito a Stefania Prestigiacomo, scusandomi fin da ora, e con i colleghi, col Vicepresidente Armao, e soprattutto con i giornalisti, se fra poco dovrò andare via, perché siamo impegnati in aula nella discussione di alcune mozioni e io che ho l'onore e l'onere di guidare il gruppo è giusto che stia in aula. Ma il gruppo di Forza Italia sarà validamente rappresentato da Stefania Prestigiacomo, da Matilde Senacusano e dagli altri parlamentari qui presenti, l'onorevole Torromino, l'onorevole Sozzani, che è il nostro capogruppo in Commissione Trasporti, saluto anche l'onorevole Nino Germanà, anche lui molto interessato, come tutti i parlamentari della Lega, alla realizzazione di quest'opera. Su questo tema noi non faremo, noi non lesineremo impegno e svolgeremo il nostro compito di sentinelle maggioranze nel governo per favorire la realizzazione di quest'opera strategica, non solo per il Mezzogiorno, anzi non tanto per il Mezzogiorno, ma per il Paese e per l'Europa. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, grazie della partecipazione, grazie Roberto, sei assolutamente autorizzato ad andare in aula e noi proseguiamo. Io, prima di fare una piccola introduzione, vorrei chiedere a degli ospiti che noi abbiamo oggi in questa conferenza stampa di alternarsi qui al tavolo della Presidenza. Scusa, mi hai rovinato la modalità. Va bene, mi alzo io. Allora, desidero chiamare a parlare innanzitutto il professore Siviero, rettore dell'Università, scusatemi, dell'Università Telematica e Campus, che è un esperto in ponti che dovrebbe svolgere un intervento e poi dopo prenderemo la parola a noi parlamentari. Prego. Grazie, Stefano. Mi coglie molto favorevole, sono sceso apposta appena l'ho saputo dove io abito a Padova. La mia università è presente in tutta Italia, quindi non c'è problema, abbiamo 100.000 studenti. Io mi occupo del ponte di Messina da un punto di vista, vorrei dire, tecnico, ideologico, culturale, cioè tutto quello che di positivo si può dire sul ponte, io lo porto avanti. Lo porto avanti senza interessi particolari, se non quelli di una cultura. Io ho sempre insegnato ponti, ho insegnato ponti agli architetti a Venezia per 25 anni, facendo 750 tesi di laurea. Ho una rivista che da 32 anni dirigo democraticamente decidendo io cosa fare, che si chiama Galileo, per la quale da due mesi sto aspettando di uscire con un numero speciale di 400 pagine dedicato al ponte. Perché vi dico questo? Perché credo che per parlare bisogna sapere. Io sono un personaggio che cerca di individuare nella gerarchia della conoscenza il modo di interloquire. si parla quando si sa, si parla quando si è documentati. Purtroppo sul ponte sono state dette un sacco di sciocchezze, un sacco di cose che da un punto di vista storico non hanno senso. Purtroppo c'è anche da dire che in Italia, almeno, il no prevale fragorosamente su un sì anche quando è minoritario. L'opera è strategica, non si parla di un collegamento tra Messina e Reggio Calabria, che peraltro è importante. Quello che conta è la dimensione A del mezzogiorno, B dell'Italia, C dell'Europa, che guarda all'Africa. Questo è il punto nodale. Noi dobbiamo pensare a una dimensione mediterranea e questa operazione è un'operazione che da un punto di vista operativo, emotivo, ideologico, culturale farebbe fare un salto di qualità all'Italia, quindi all'Europa. Il Sud lo metto in automatico, ovviamente, ma affinché noi pensiamo che si tratti di un collegamento, voglio dire che qualcuno incautamente nel passato ha detto tra due cosche. Io questa cosa veramente la rifiuto, la rigetto, la rispingo il mittente, perché sembra che queste battute risolvano i problemi. No, li complicano. L'Africa è il futuro, non è la Cina. Ormai il Mediterraneo è in mano a, lo sappiamo, Turchia, e vediamo che cosa sta succedendo, la Russia, e la Cina. La Cina che sta lì, si è presa il Pireo. Noi abbiamo una dimensione di Suez che si è raddoppiato, tra l'altro l'hanno raddoppiato in un anno. Dico solo ancora due parole, anche questo c'è da dire. La tempistica non è un problema. Oggi i tempi possono essere tranquillamente dimezzati se si risolvono alcuni problemi procedurali, ovviamente. Abbiamo un cantiere che era già avviato, un cantiere avviato, 40 milioni di euro spesi per la variante di Canitello. Un'opera validata come è stata data all'inizio. Bene, perché non si fa? Ecco, io vorrei che fossero date risposte chiare, scientifiche, tecniche e non ideologiche al perché non si fa. e io mi batterò fino in fondo al sud perché è il mio cuore che batte per il sud e credo che da uomo del nord è il cuore che batte a sud e questo possa valere ancora di più e lo faccio valere perché mi piace, mi piace dire che mi sento dal sud perché il sud è il sole, perché il sud è la cultura, perché il sud è la storia, perché il sud siamo noi. L'Italia nasce dal sud, nasce dal sud, diciamoselo francamente, e c'è più Magna Grecia in Magna Grecia che non in Grecia. Io mi fermo qua, avrei tantissime cose da dire, vi ringrazio per l'attenzione, se avete qualcosa ci sono. Grazie per la presenza, avremo ancora bisogno del suo contributo. Chiedo all'amico collega Diego Sozzani di intervenire perché anche lui poi deve correre in aula. Diego Sozzani è il nostro responsabile del Dipartimento Infrastrutture, quindi è la persona più titolata a parlare di ponte. Grazie Stefania. Io seguo un po' quanto ha già accennato il professor Siviero sotto profilo geopolitico, perché noi in questo momento abbiamo due, un dibattito molto importante all'interno delle nostre aule, che sono quello del Recovery Fund, nella quale devo ringraziare anche i colleghi, sia calabresi che siciliani, capitanati anche da Stefania Prezzi-Giacomo, che in Commissione Trasporti abbiamo fatto di tutto per mettere all'interno del Recovery Fund questo tipo di opera, per la quale era assolutamente fondamentale ai fini dei finanziamenti ed era possibile sia finanziarla che realizzarla nell'ambito dei sei anni possibili previsti dal Recovery Fund, perché evidentemente esiste già un progetto definitivo, esistono già, come ha ricordato il professor Siviero, degli investimenti di 40 milioni di euro già fatti e quindi questo era propedeutico allo sviluppo dell'intera realizzazione dell'opera. Ma ci sono altri due elementi che volevo farvi vedere dal punto di vista geopolitico. Uno, la Sicilia e il futuro dell'Italia. Lo dico perché dal punto di vista del canale che ci collega con l'Africa, come ha appena accennato chi mi ha preceduto, è il canale di Sicilia, si chiama così, non si chiama in un altro nome, è fondamentale per il recupero o per lo sviluppo economico dell'intera nazione perché l'utilizzo dell'isola ai fini anche logistici per lo sviluppo economico dell'intera nazione passa attraverso la Sicilia come l'avanguardia rispetto al futuro dell'economia mondiale che è appunto l'Africa ma con un collegamento diretto con l'Italia che è il ponte sullo stretto di Messina. In più abbiamo un dibattito lo sanno bene i colleghi calabresi sono qui voluto da più forze politiche compresa anche quella che si oppone fortemente al ponte che è il Movimento 5 Stelle della Salerno Reggio Calabria. Bene, non ha senso fare la Salerno Reggio Calabria se non si completa con il ponte fino in Sicilia. Non ha senso perché questo è un progetto europeo finanziato dall'Europa e voluto fortemente dall'Europa e le linee di alta velocità devono essere completate secondo il progetto europeo. Quindi questi sono i motivi per cui noi ci batteremo fino in fondo per la realizzazione di quest'opera. Grazie Diego uniti e agguerriti su questa battaglia. Salutiamo e ringraziamo anche l'onorevole Furgioele della Lega presente anche lui impegnato in questa battaglia per il ponte chiedo a Matilde di presentare il nostro ospite l'ingegnere Mollica essendo un suo concittadino. Io ringrazio Stefania per questa straordinaria iniziativa che fa parte di una serie di iniziative che Forza Italia ha condotto per sostenere la necessità della realizzazione di quest'opera per il Mezzogiorno ma per tutto il Paese. Approfitto per ringraziare il professor Siviero e l'ingegnere Mollica che per me c'è un affetto particolare anche perché lui è rappresentante di una delle più più importanti associazioni che è stata costituita al Sud che è Rete Civica per le infrastrutture del Mezzogiorno che ha sempre tenuto il faro acceso su questo dossier anche quando era stato archiviato e soprattutto Giovanni Mollica insieme all'ingegnere Musca è l'autore di un dossier che è stato stampato da Rotary sarà in distribuzione nei prossimi giorni che sovverte una delle più grandi contestazioni ideologiche che viene espressa in riferimento al Ponte sullo Stretto che è quella dell'impatto ambientale beh l'ingegnere Mollica ci spiegherà perché in realtà il Ponte sullo Stretto di Messina è un'opera ecosostenibile grazie grazie Matilde il discorso è molto il discorso è molto semplice quando è stato portato avanti il concetto di transizione ecologica io personalmente sono stato estremamente contento perché era giusto che l'Italia si adeguasse a quelli che erano dei criteri ormai in atto da molti anni da molto tempo prima che lo facesse l'Italia soprattutto nell'Europa del Nord e in altri paesi adesso però mi vengono dei dubbi mi vengono dei dubbi perché ho l'impressione che questa frase questa formula sia una formula vuota dietro la quale non c'è nulla se non chiacchiere e strumentalizzazione perché lo dico perché se è vero che vogliamo mirare a una transizione ecologica e allora cosa c'è di più inquinante del traghettamento dei treni sullo stretto di Messina dico al di là dei conti che ho fatto io che sono l'ennesimo libro di tra i tanti che sono stati pubblicati e che vengono regolarmente ignorati dalle grandi associazioni pseudo ambientaliste al di là di questo ci sono anche una serie di conseguenze logiche della mancanza di un attraversamento stabile lasciamo da parte quelle trasportistiche che sono evidenti dico sono non so saranno mille anni che queste cose si possono riscontrare a livello di storia del mondo e di libri di economia dei trasporti ma al di là di questo dico l'inquinamento è chiaro che è molto maggiore con il traghettamento rispetto a quello che si avrebbe con il ponte la fauna marina dico tutti siamo pronti a piangere giustamente se vediamo capodogli investiti dalle navi cetacei che perdono l'orientamento per il rumore per l'inquinamento acustico delle navi stesse dico sullo stretto ci sono da un lato all'altro in una settimana mille 1200 navi che vanno avanti e indietro e gli ambientalisti gli animalisti non si dispiacciono dei sicuri certi incidenti che avvengono anche se magari non si sanno perché queste bestie poi vanno a morire a chilometri di distanza tutto questo non conta nulla silenzio totale ma allora che cosa significa la transizione ecologica e infine l'ultimo punto scusate se è poco la sicurezza io non so quanti di voi hanno mai traghettato sullo stretto di Messina in treno e soprattutto di notte sapete cosa vuol dire stare chiusi in una cabina che se un metro per tre è assai chiusi dentro un treno che a sua volta chiuso dentro la pancia di una nave e che quindi se si dovesse scappare andare via per un qualsiasi motivo e capita perché il regolamento della sicurezza navale è ferreo da questo punto di vista sapete cosa vuol dire uscire scendere dei gradini altissimi da un vagone e andare passare sfiorando i treni che sono avvolte a distanza di 20 cm tant'è che non si può nemmeno aprire lo sportello e poi andare a incanalarsi sulle scalette di due o quattro rampe per andare a quello che viene chiamato il punto di raccolta e dico ma non è soltanto una chiacchiera in tutto il resto del mondo e soprattutto in Europa tutto questo non accade perché il traghettamento dei treni nel resto d'Europa non avviene con queste modalità viene o sospeso la notte oppure viceversa deviato in percorsi molto più lunghi ma più sicuri e allora io mi chiedo ma gli ambientalisti e gli ecologisti esteri sono tutti molto più deficienti di noi cioè solo noi abbiamo questa genialità di adottare dei sistemi che sicuramente non sono diciamo rispondenti alle norme di sicurezza io non so come si faccia e lo dico con dispiacere come si faccia a ignorare questa cosa e addirittura pensare che il traghettamento il potenziamento del traghettamento possa essere un sistema per migliorare e per risolvere il problema sullo stretto io credo che l'unica cosa sia quella che diceva il professore Siviero cioè i policy maker cioè quelli che devono prendere le decisioni politiche non sanno e non hanno l'umiltà di informarsi grazie scusate grazie grazie all'ingegnere Mollica l'onorevole Torromino esponente di Forza Italia calabrese che anche lui interviene brevemente sì brevemente grazie ringrazio Stefania Matilde e Roberto per avermi permesso di intervenire io provengo da una parte della Calabria dove la viabilità è veramente qualcosa di indefinibile quindi questo sarebbe per tutto il territorio per la Calabria ma anche per la Sicilia qualcosa di assolutamente primario quindi anche se io come diceva prima il professore Siviero non ne farei una questione campanilistica perché questa non deve essere solo una battaglia condotta diciamo dai deputati calabresi dai deputati siciliani questa deve essere una battaglia condotta da tutta l'Italia perché comunque questa è un'infrastruttura che permetterebbe innanzitutto al sud di raggiungere quella per equazione infrastrutturale che ormai da secoli stiamo aspettando e permetterebbe di allacciare e di far riapprovare l'Italia diciamo di quello che il mercato medio orientale il mercato africano che sarà se uno poco poco è ingiumilante pensa a quello che potrebbe essere lo sviluppo quindi che sia una battaglia condotta da tutti il mio appello è questo a tutti i deputati sia di Forza Italia ma anche degli altri gruppi e degli altri schieramenti politici affinché possiamo portare a termine questa battaglia io chiudo grazie a te grazie grazie bene invito il vicepresidente della regione a prendere posto qui al tavolo e aggiungo io qualche considerazione per poi passare la parola a Matilde Siracusano e poi conclude l'onorevole Armau vicepresidente della regione siciliana lo scopo di questa conferenza stampa è quello di sollecitare ancora una volta lo stiamo facendo da mesi con atti parlamentari in aula è quello di sollecitare il governo questo governo il governo Draghi a pronunciare una parola chiara sulla questione del ponte che non è un sogno di 5 milioni di siciliani un sogno nel cassetto ma rappresenta una infrastruttura cantierabile sulla quale un panel di 80 esperti in costruzioni di tutto il mondo si è pronunciato difendendolo e considerandolo un progetto avanguardistico noi riteniamo che non sia più accettabile per il Parlamento ma che lo ha chiesto ma anche per il Paese continuare a demandare a commissioni tecniche o a tempi e modalità burocratiche del recovery plan la definizione di quello che deve essere il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria di cui finalmente dopo un buco nero durato 10 anni nel quale non si sono fatte tutte quelle infrastrutture che i fautori del no al ponte ritenevano prioritarie e necessarie e non si è fatto nemmeno il ponte ecco dopo questo buco nero di 10 anni finalmente si è tornato a parlare di necessità di collegamento stabile tra Sicilia e Calabria perché si è compreso che il destino del Paese il destino del Mezzogiorno è legato alla realizzazione di questa infrastruttura allora 5 milioni di siciliani che comunque costituiscono l'8% della popolazione nazionale hanno diritto ad avere chiarezza allora noi sappiamo che oggi l'emergenza del Paese è sicuramente legata alla questione dei vaccini sappiamo che dobbiamo mettere il Paese nelle condizioni di ripartire senza il completamento della campagna vaccinale questo non sarà possibile ma abbiamo il dovere al contempo di porre le basi della ripresa economica una ripresa economica ancora più difficile più in salita perché non dobbiamo dimenticare le condizioni di partenza soprattutto di una parte determinante del Paese il Mezzogiorno prima della pandemia che era sicuramente una condizione di crisi l'opportunità costituita dai fondi messi a disposizione dall'Europa ci impone di dire con chiarezza se questa opera deve essere realizzata sì o no poi noi rimetteremmo certamente alle capacità del nostro primo ministro Draghi e del governo la modalità con la quale questa infrastruttura deve essere finanziata se in parte con i fondi del recovery in parte con tutte le risorse liberate del fondo sviluppo e coesione ma naturalmente non ci si può trincerare dietro ripeto alle tempistiche previste dal recovery plan o a commissioni di studio perché questa è una scelta politica che deve compiere il governo e forza Italia ma anche i nostri alleati tradizionali fratelli d'Italia e Lega e anche pezzi significativi diciamo dell'altro schieramento oggi in parte tutti dentro la maggioranza ritengono importante ed urgente quindi noi chiediamo al governo di dire con chiarezza cosa intende fare non è più possibile non dare una risposta la commissione di studi doveva completare i suoi studi entro dicembre siamo ad aprile ancora non si conosce quale sia l'orientamento di questa commissione siamo anche preoccupati perché non vorremmo che diciamo le incertezze rispetto ancora assurde e inconcepibili obiezioni di tipo ideologico di qualche forza politica all'interno della maggioranza possano spingere una commissione che dovrebbe essere comunque terza e assolutamente imparziale di eventualmente mettere in discussione un progetto che invece ha superato tutti i vagli possibili a livello nazionale ed europeo perché anche solo parlare di modifica del progetto significa fare passare altri sette anni e questo avrebbe il sapore di una presa in giro inaccettabile per i meridionali per i siciliani per gli italiani quindi noi da qui alla fine del mese data di scadenza entro la quale l'Italia dovrà presentarsi in Europa con il suo programma per il recovery plan non smetteremo di chiedere di sollecitare al governo di fare chiarezza rispetto a questa infrastruttura io ringrazio i professori che sono intervenuti gli esperti ma ne porteremo anche degli altri perché sono tanti i sostenitori del ponte è anche una questione di diritti di cui poi parlerà anche il vicepresidente della regione Armao il diritto alla mobilità ricordo sempre che per percorrere gli 800 chilometri tra Salerno e Milano ci vogliono tra 5 e 6 ore per percorrere gli stessi 800 chilometri da Siracusa a Roma occorrono 12 ore questo significa che ci sono due Italie e ci sono diritti negati per una parte consistente della popolazione si parla di rilanciare il mezzogiorno attraverso il turismo la cultura la valorizzazione del suo straordinario patrimonio naturalistico è monumentale il sistema dei trasporti è fondamentale perché questo accada e quindi non è pensabile ipotizzare ancora un sistema di collegamento tra la Sicilia e la Calabria novecentesco attraverso il ferry bot questo è inaccettabile rispetto a questo noi chiediamo una parola di chiarezza e non smetteremo di farlo questo è la battaglia che ha ingaggiato Forza Italia mi auguro assieme a tutto il centrodestra e a quanti all'interno di questa maggioranza credono che questa non sia una butade non sia l'ennesimo dibattito da svolgere in maniera ideologica per poi archiviarlo e riparlarne tra altri dieci anni ma sia un'urgenza per il paese chiedo a Matilde di esprimere anche lei il suo intervento e poi al vicepresidente della regione Armao di concludere grazie beh infatti hai detto bene Stefania ecco oggi rispetto all'inizio della legislatura vi dico che io sono positivamente colpita da quanto è stato fatto perché mentre all'inizio della legislatura il governo Conte 1 la prima reazione del sottosegretario alle infrastrutture crimi fu quello di riderci in faccia quando accennammo al ponte sullo stretto fu proprio all'inizio della legislatura oggi dopo tre anni ci troviamo ad avere un intergruppo parlamentare composto da la maggior parte delle forze politiche che sostengono questa maggioranza a esclusione del Movimento 5 Stelle che purtroppo la parte minoritaria che sostiene questo governo che è ideologicamente contraria alle grandi opere ideologicamente contraria al ponte anzi non lo si può neanche nominare il ponte per il Movimento 5 Stelle perché è un'offesa personale quindi siamo a questo livello qui ecco quindi però ecco siamo riusciti in tre anni a superare molte resistenze politiche il pregiudizio ideologico che ha viziato il dibattito sta sfumando e soprattutto quello più più insopportabile più odioso per noi meridionali è quello del benaltrismo Ingegner Mollica abbiamo sempre sentito dire no prima facciamo le autostrade le ferrovie perché abbiamo le trazzere le ferrovie i treni che non funzionano benissimo ma sappiamo sappiamo con certezza che il ponte rappresenterebbe uno stimolo per realizzare tutte le altre opere e certamente non ci mancano le risorse in questo momento quindi ecco noi abbiamo abbiamo sconfessato tutte le resistenze ideologiche abbiamo sconfessato anche tutte le resistenze tecniche che sono esistenti hanno già abbondantemente relazionato i nostri esperti in riferimento appunto a tutte tutte le resistenze sul piano tecnico che sono state fornite dagli oppositori al ponte la cantierabilità ecco il ponte è un progetto che è immediatamente cantierabile ha superato il vincolo del pilone interferente con la ferrovia proprio perché è stato spostato nel 2013 è stata fatta la variante di Cannitello quindi è stato spostato l'asse ferroviario è previsto dall'Unione Europea che l'ha inserito nel 2005 nel corridoio Palermo-Berlino l'ha riconfermato nel 2013 è stato approvato dalle regioni Sicilia e Calabria è un'opera che è stata sottoposta ad un procedimento ad evidenza pubblica al palto giudicato al termine di una gara internazionale quindi sono una serie di ragioni che giustificano la realizzazione di quest'opera è una serie innumerevole di benefici per il nostro territorio in termini di attrattività turistica la creazione di decine di migliaia di posti di lavoro ecco è lo strumento che davvero rilancierebbe la nostra economia e poi senza il ponte sullo stretto non si può parlare di alta velocità per cui l'alta velocità senza il ponte sullo stretto non è applicabile non è realizzabile è una presa in giro parlare di alta velocità senza il collegamento ecco io ringrazio il vice presidente della regione siciliana l'onorevole Armao che è stato uno dei più grandi sostenitori in questa fase cruciale della necessità di realizzare questa grande opera io ringrazio il gruppo di Forza Italia l'onorevole Chiuto l'onorevole Prestigiacomo l'onorevole Seda Cusano tutti coloro che hanno organizzato queste iniziative di oggi ma vorrei ringraziare una persona che non c'è più che si è battuta per il ponte e si continua a battere dall'assù per il ponte che è Iole Santelli perché questa opera io l'ultimo discorso l'ultima interlocuzione l'ho avuto che abbiamo avuto l'abbiamo avuto proprio sul ponte e questa è un'opera che si deve assolutamente fare oggi e domani abbiamo conferenze della regione sul PNRR sul piano nazionale di ripresa e resilienza ed è impensabile che non ci sia il ponte il ponte non riprendo le cose che sono state dette perché le conosciamo le condividiamo a tutti il ponte sarà una straordinaria centrale energetica altro che un elemento di inquinamento come oggi l'assenza del ponte una straordinaria fonte di energia sottomarina e eolica con tutte le forme nuove di produzione di energia sarà una delle attrazioni turistiche più importanti del Mediterraneo ne ho parlato con i presidenti delle autorità portuali siciliane e tutti dicono che il traffico croceristico del Mediterraneo sarà rivoluzionato alla presenza del ponte perché non ci sarà crociera che passerà da una parte all'altra del Mediterraneo che non passerà sotto il ponte e quindi tutto quello che vuol dire mutare il traffico croceristico del Mediterraneo non si può parlare in Sicilia di un porto hub che è altrettanto essenziale qual è il ponte di Messina se non c'è il ponte di Messina per il semplice fatto che un porto in Sicilia senza il ponte diventa un porto di trashipment c'è un porto di mero scambio e allora sapete cosa c'è se lo vanno a fare davanti al deserto non c'è bisogno di venirlo a fare in Sicilia un porto di trashipment ma invece un porto che diventa una porta per l'Europa si può fare se e in quanto c'è il ponte di Messina e poi lo dicevano le prestigie come Pucanzi il tema della perequazione infrastrutturale e della differenza di questo drammatico divario che da 160 anni spacca il paese e che proprio nel settore del diritto alla mobilità hanno uno degli elementi più tipici o della asimmetria nella dotazione infrastrutturale il tema della condizione di insularità per la condizione di insularità costa ai siciliani esattamente quanto costa realizzare il ponte ogni anno con quanto costa l'insularità e l'abbiamo calcolato e ci sarà adesso la commissione paritetica grazie alla legge approvata dal Parlamento su iniziativa di Forza Italia che dovrà certificarlo ogni anno l'insularità costa ai siciliani 6,5 miliardi di euro sostanzialmente il costo del ponte quindi il ponte è essenziale il ponte è un'infrastruttura che rimette lo diceva il professore Siviero rimette in collegamento la Sicilia con l'Europa ma soprattutto mette l'Europa in una proiezione veramente verso l'Africa verso il bacino del Mediterraneo non a caso il corridoio è denominato corridoio scandinavo Mediterraneo non come qualcuno diceva un anno fa Helsinki-Palermo è il corridoio scandinavo mediterraneo perché proietta l'Europa verso l'Africa che è il vero vero bacino col quale dobbiamo confrontarci perché nei prossimi anni in Sicilia nel sud d'Italia la popolazione si ridurrà l'età crescerà la popolazione si impoverirà dall'altra parte del Mediterraneo un miliardo tra Maghreb e sub Maghreb un miliardo di persone età media 30 anni stessa religione la stessa lingua e quindi o entriamo in collegamento e in contatto profondo con questa realtà ne saremo travolti non ho altro da aggiungere se non per dire che la regione siciliana ringrazia il gruppo di Forza Italia il partito di Forza Italia che tanto sta battendo al quale mi onoro di appartenere peraltro e per la battaglia che sta facendo è una battaglia importante essenziale in conferenza delle regioni daremo filo la torcia a chi pensa di fare il PNRR senza prescindendo da queste infrastrutture dal Porto Hub e dal Ponte e lo stesso faremo in Europa perché non finisce con l'approvazione del PNRR in Italia perché il confronto su questi temi continuerà in Europa fino a quando la Commissione che basta andare sui siti della Commissione e vedere che il Ponte c'è disegnato nel corridoio scandinavo-meterraneo che è un riferimento effettivo fino a quando l'Europa non ci darà quello che ci meritiamo c'è un collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria soprattutto tra la Sicilia e l'Europa grazie grazie a tutti invito i colleghi amici della Lega l'Onore Germana e Furgioele di venire qui per una foto insieme in quanto sostenitori del Ponte insieme ai nostri ospiti grazie grazie a tutti i nostri ospiti grazie a tutti i nostri ospiti